Ciao, io sono Fluffy, sono un conuro del sole. Quella che sta facendo un filmato è Elisa. Non vuole farsi vedere perché è brutta. Stavo scherzando, meglio che mi nascondo. Cucu, vorrei proprio vedere che esperimento vuole fare. Ah, che cos'è? Una minaccia. Che fai? Perché fai così? Ti stavo rilassando. Sei strana. Allora, mi stai provocando? Se mi tocchi in questo modo sei morta. Ti prendo dito. Così ti do segnale che non mi piace il tuo atteggiamento da arrogante predatore. Ecco, meglio. O la sei più pacifica? Mi hai calmato solo toccandomi con la mano rilassata. Proprio come nel precedente video che si trova beccando qui sopra a destra la scheda. Ora sono più calma. Ma che fastidio sulla ala. Pure la coda tocchi. Guarda che io ci tengo. Per me sono essenziali. Toccati le tue ali. Ma, ehi! No, no. Ora non toccarmi più che ce l'ho con te. Vuoi farti perdonare, eh? Però non ti capisco. Meglio che ci penso io con le pulizie. Via, via. Ora mi hai colto di sorpresa. Però non mi hai spaventato perché so che ci sei. Così, così, sì. Mi piace. Si vede che hai preso le lezioni del video precedente. Mmm, che goduria. Facciamo pace. Ora che mi sono calmata puoi toccarmi dappertutto. Come sono carina. Sono proprio strani questi alieni senza le fiume. Ehi, tu! Iscriviti se vuoi vedermi ancora. E fammi sapere se ti sono piaciuta. Ciao! 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 Grazie a tutti.